Ciao, benvenuti e benvenute sul mio canale. Io sono Maria Rosaria, tutti mi chiamano la Mary e oggi vi parlo di Make Up, la mia base perfetta. Dopo una buona detersione, mattina, ed una skin care routine appositamente da me decisa e ad hoc per la mia pelle, oggi vi racconto i prodotti che utilizzo per creare la mia base perfetta. Parto dalla protezione solare, SPF 30 in inverno, SPF 50 in estate, importantissima ed indispensabile visto che utilizzo dei sfoglianti, acidi e quant'altro. Oggi in uso ho questa protezione 30 di Vichy, è Ideal Soleil di Vichy appunto SPF 30. È un trattamento protettore effetto matt, una protezione che difende dai raggi UV, riduce le imperfezioni, i pori dilatati e la pelle lucida. È una formula leggera, non grassa, che si assorbe subito. Un prodotto fatto con argilla verde, con estratto di bifidus ed acqua vulcanica di Vichy. Tutti i prodotti che in sinergia hanno la capacità di rinforzare le difese naturali della pelle. Vi ricordo, ma ne parlerò meglio in un video dedicato, che la sera l'effetto della crema solare deve, e ripeto deve, essere tolta con un de maquillant a base oleosa. Ma ve ne riparlerò. Continuiamo con il fondotinta. Ne ho di diversi, ma ora in uso ho questo fondotinta in mousse by Kiko, colore 03, di una edizione limitata del 2017. Ve lo mostro. Eccolo qua. Sta quasi finendo. Ecco perché vi parlo di questo, perché in questo periodo sto portando a termine questo prodotto, perché ormai con me da molto tempo. È un po' scuro per il mio incarnato, ma dosato e soprattutto con i prodotti che poi vi mostrerò. Si adatta molto bene alla mia pelle ed è piacevole da indossare. È una texture molto leggera, ma coprente. Non fa effetto cerone, tipo impalcatura edile. E lo sto usando con moltissimo piacere. Anche appunto perché è con me da moltissimo tempo. Lo conservo molto bene, ma va smaltito. Continuiamo con la cipria. Sempre due. Io utilizzo sempre due cipre. Allora, qui ho la cipria HD, quindi HD, linea mark di Avon. Non so se questo tipo di cipria è ancora in gamma. Io ve la faccio vedere. Ecco, siamo a questo dosaggio. Questo è il colore della cipria, vedete? Tutta bianca. È leggerissima, è impalpabile, ha un effetto lisciante e perfezionante. È leggermente sbiancante, è vero. Però, un velo leggerissimo aiuta a schiarire, in questo caso, il fondotinta che vi ho mostrato prima. Sono 9 grammi di cipria e sono moltissimi perché smaltire una cipria ci vuole molto, ma sono ben contenta che questa cipria sarà con me per tanto tempo ancora. E l'altra cipria qual è? Ve la mostro. Eccola qua. È molto specchiato, quindi lo mettiamo così. Cerchiamo di non farlo girare molto. Le Meteorite di Guerlain, questo in colore 2. Adesso ve la faccio vedere. Questo è il suo piumino che io ovviamente non uso. Eccole qua. Queste sono le perle. Ok, lasciamole sulle perle. È un prodotto cult e must have che nella mia base perfetta non manca mai. Lo so, è un prodotto costoso, ma un prezzo che si ammortizza molto bene nel corso del tempo. Fate conto che io questa l'ho comprata nel 2000 e fine 2014, inizio 2015, ed era all'epoca questa confezione una edizione limitata del tempo. Si può anche acquistare solo il refill, quindi solo le palline per intenderci, le perle. Ma la confezione merita moltissimo e a volte è anche realizzata appunto in pack, che sono edizioni limitate, che piace molto ai collezionisti. Oltre al delizioso profumo di violetta, e qui la snasata è d'obbligo. Profumo iconico, tra l'altro, che ha ispirato anche una fragranza dedicata dalla Maison proprio al profumo delle meteorite, queste perle multicolore nascondono il segreto di poussière d'étoile, un polimero che crea luce e che, applicato sulla pelle, trasforma la luce invisibile in radiosità. Perle bianche matte, perle rosate e dai riflessi azzurri, che correggono rossori, si applicano con un pennello ampio e morbido e regalano freschezza e catturano la luce. Questo è un mai senza. Quindi adesso andiamo a ricomporlo. Questa è la confezione, ve la faccio ancora vedere. Perfetto. Continuiamo con il correttore. Ve lo faccio vedere benissimo, eccolo qua. Questo è il Liquid Camouflage di Catrice, il mio correttore preferito. Ne ho provati moltissimi, ma nulla come questo prodotto low cost. È intorno ai 3-4 euro, non di più. Esiste in colorazione 01 oppure 02, io uso entrambi. Ha effetto waterproof e di questo prodotto applico una piccola quantità che sfumo con un pennello ampio e piatto. Poi lo sfumo ancora con una blender leggermente inumidita. Non entra nelle pieghette. Ovviamente il mio contorno occhi in questo caso deve essere ben nutrito, quindi la skin care routine precedente deve essere impeccabile e ben mirata. Una leggera spolverata di pennello e cipria vanno a completare l'applicazione. È un prodotto fantastico. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Io spero di trovarlo sempre che non sia discontinuato perché andrei veramente in crisi perché è un prodotto così performante a poco prezzo lo troverei difficilmente. Passiamo alla chicca. In questo caso la chicca di Kiko. Ovviamente non poteva mancare il prodotto must have per avere la mia base perfetta. Questo è Radiant Boost di Kiko. Un fantastico prodotto che va applicato dopo la protezione solare e prima del fondotinta. Fondamentale eh? Ci sono due versioni di questo prodotto. Il matte ma io uso questo che invece è il Radiant. È un medium cost che spesso si trova in offerta e quando è in offerta io faccio scorta perché questo è una cosa che finisco, compro, ricompro e finisco. Regala luce al viso, ravviva l'incarnato, si assorbe velocemente, non unge ed aiuta a perfezionare l'uso del fondotinta. È un prodotto molto amato. Per me è irrinunciabile ma non mi stancherò mai di dirlo. Una base perfetta parte da una base skin care precisa, da un viso perfettamente pulito ed idratato. Senza questo il make up che andrete a realizzare su una pelle grigia, spenta, non avrà mai la luminosità che merita. Quindi io con questo prodotto vi saluto, ci vediamo al prossimo video e chissà la Mary cosa si inventerà. Ciao!